Continuiamo a mantenere i riflettori accesi su Mafia Capitale, oggi abbiamo portato ulteriore documentazione, il prefetto avrà di che divertirsi, speriamo noi, a dare chiarezza a quello che sta accadendo a Roma. Non abbassiamo la guardia, perché questo è un fatto che non può essere coperto dai vari tweet o dai vari slogan del Presidente Renzi, vogliamo chiarezza e la vogliamo immediatamente, quindi qui, oggi, come tante altre volte, a fare quello che abbiamo promesso di fare.